Musica Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Nell'ultima seduta dell'Assemblea Legislativa, tenutasi martedì 13 ottobre, sono state discusse le question time, interrogazioni a risposta immediata, la proposta della Lega di modificare la legge sullo sport e la relazione del difensore civico. Fabio Paparelli, portavoce dell'opposizione, ha chiesto, prima dell'avvio dei lavori previsti dall'Ordine del Giorno, che la Presidente della Giunta, Donatella Tesei, riferisse sulle dimissioni del Direttore Generale di Sviluppo Umbria, sulle dichiarazioni della Presidente stessa in merito ai problemi di bilancio della Comune di Montefalco e sulle parere dell'ANAC in merito ai test seriologici. Paparelli ha invocato una esigenza di trasparenza rispetto alle vicende elencate. La Presidente Tesei ha annunciato che nelle prossime sedute d'aula risponderà alle richieste avanzate. Sto acquisendo, ha detto, gli elementi necessari. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con 11 voti favorevoli, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e 8 contrari, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Civici, la proposta dei consiglieri della Lega, primo firmatario Valerio Mancini, di modificare la legge 19 del 2009, meglio nota come legge regionale sullo sport, norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Prevista una revisione delle categorie dei beneficiari di quote agevolate e ingressi omaggio in palestre e strutture sportive. Sarà alla Giunta, a doverle indicare, garantita la priorità per anziani e disabili, ma non per migranti, ex detenuti e tossicodipendenti. Voto contrario da parte della minoranza, che ritiene questo atto discriminatorio e propagandistico. L'Assemblea ha poi preso atto della relazione sull'attività svolta nel 2019 dalla difensore civico, illustrata all'aula in videoconferenza dal difensore stesso, Marcello Pecorari. Il difensore civico ha spiegato a una valutazione complessiva, ma distaccata, delle questioni che gli consentono, sempre nel massimo rispetto della legalità, di suggerire soluzioni coerenti con i reali bisogni dei cittadini. La percezione maturata in questi primi mesi di attività è quella che il cittadino abbia realmente percepito la figura del difensore civico come un'istituzione indipendente e autonoma, snella e facilmente accessibile, alla quale rivolgersi per trovare soluzioni a problematiche in tempi rapidi e senza costi. La seduta d'aula è stata chiusa per mancanza del numero legale, verifica chiesta dal portavoce dell'opposizione Fabio Paparelli, a margine dell'illustrazione della mozione dei consiglieri della Lega, Francesca Peppucci, Daniele Carissimi, Eugenio Rondini, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, che mira ad impegnare la Giunta ad assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il Governo al fine di dotare gli agenti di polizia penitenziaria di pistole e impulsi elettrici, conosciuta come taser, e spray urticante, affinché possano poter affronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità. L'atto verrà inserito nuovamente all'ordine del giorno della prossima seduta a consigliare. Nella parte dedicata al question time, la consigliera Donatella Porzi del Partito Democratico ha presentato la propria interrogazione alla Giunta relativa alle presunte gravi inadempienze riguardo agli screening del tumore al seno, del collo retto e della cervice uterina. Illustrando l'atto in aula, Porzi ha sottolineato che è necessario sapere quando la Giunta intende ripristinare tutti gli screening antitumorali previsti dalle normative regionali e garantiti in altre regioni nonostante il Covid, ma anche capire quale programmazione ha adottato l'esecutivo per recuperare i mesi di inattività e se intende adottare un piano straordinario di assunzioni per potenziare le dotazioni organiche di medici e personale infermieristico delle strutture interessate agli screening. L'assessore Luca Coletto ha risposto che per far ripartire lo screening è necessario poter operare in sicurezza con i sistemi di protezione individuali per poter recuperare le sedute perse durante la pandemia. Le aziende sanitarie devono provvedere in questo senso. Avranno priorità, ha detto, le persone che dovevano svolgere i controlli a marzo e aprile del 2020. Il consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti all'assessore alla sanità Luca Coletto sulle linee di indirizzo regionali per il trattamento sanitario obbligatorio e l'accertamento sanitario obbligatorio. Nell'illustrazione dell'atto, Bori ha spiegato che all'inizio del 2020 la Giunta ha adottato le linee di indirizzo regionali in materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio in salute mentale, ricependo e adeguandosi ai contenuti dell'accordo Stato-Regioni, siglato nel 2018. Linee di indirizzo che partono dalla necessità di migliorare l'appropriatezza e la concretezza dei processi relativi ai trattamenti sanitari e accertamenti e di ridurne la variabilità, garantendo il diritto alle persone e ricevere interventi comunque rispettosi della dignità personale. Previsto inoltre l'insediamento in prefettura di un apposito tavolo di cui però, secondo Bori, non sono chiare le componenti ne tantomeno il coinvolgimento di figure cruciali e in prima linea come le polizie locali. Bori ha chiesto di sapere se la Regione intenda rendere pubblici gli esiti del lavoro prodotto dal tavolo attivato presso la Prefettura di Perugia e dal gruppo di lavoro regionale Salute Welfare e se intenda avviare un vero percorso di partecipazione e di confronto con tutte le figure professionali titolari della procedura di esecuzione dei trattamenti sanitari e accertamenti. L'assessore Coletto ha risposto che in occasione della conferenza regionale sulla salute mentale nel 2015 sono state condivise le linee guida in materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio. Sono stati raccolti i protocolli già attivati in alcuni distretti e in altre regioni. È stato attivato un gruppo di lavoro che ha lavorato al documento. Il servizio regionale, ha detto Coletto, ha coinvolto le aziende sanitarie, il direttore del pronto soccorso e i direttori sanitari. Questo documento, ha concluso l'assessore, è stato consegnato al Comitato per la Polizia Locale dell'Umbria. Il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico ha presentato la propria interrogazione alla Giunta per conoscere le tempistiche riguardanti la fine dei lavori per la sistemazione e l'ampliamento del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni e per sapere se le notizie di stampa relative al fermo e alla riprogettazione dei lavori di oncologia corrispondano al vero. Quindi per conoscere le tempistiche per l'avvio e la conclusione dell'ampliamento e dell'adeguamento degli spazi dedicati all'oncoematologia ed oncologia che riteniamo, ha detto Paparelli, debbano essere celeri al fine di venire incontro alle esigenze di centinaia di utenti e pazienti. L'assessore Luca Coletto ha risposto che nel corso del mese di luglio il Ministero della Salute ha inviato alla Regione Umbria l'approvazione del piano della riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 adottato dalla Giunta regionale. In riferimento all'azienda ospedaliera di Terni, il suddetto piano prevede lavori di ristrutturazione edile e adeguamento impiantistico finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare quattro degenze singole di terapia intensiva e un open space di terapia intensiva con quattro posti letto oltre ai locali a servizio del reparto. I tempi di attuazione dell'intervento sui reparti di malattie infettive e oncoematologia prevedono la predisposizione di accordi quadro stipulati dai commissari entro il primo novembre. In merito alla riprogettazione, lo scorso 2 settembre, nell'ospedale di Terni, sono iniziati i lavori dell'ex area medica posta al piano terra per consentire il trasferimento del reparto di oncoematologia, ultimati il primo ottobre scorso. L'intervento ha consentito di realizzare un cupo oncoematologico, una sala prelievi ed ambulatorio, quattro ambulatori, studi medici, infermeria, archivio e stanza adegenza, con due posti letto, quattro stanze dedicate alla terapia su poltrona. L'azienda ospedaliera rivedrà il progetto della sala di attesa del reparto oncologia. Nel frattempo ha provveduto a lavori terminati il primo ottobre riguardanti la realizzazione di un nuovo spazio da dedicare alla sala di attesa del reparto di oncologia, mediante il trasferimento dell'ufficio del Tribunale dei diritti del malato. Il consigliere Vincenzo Bianconi del gruppo Misto ha chiesto di conoscere gli intendimenti della giunta regionale rispetto all'ospedale di Norcia e dei servizi sanitari nel territorio. Nello specifico, Bianconi ha chiesto di sapere se e quando la pianta organica dell'ospedale di Norcia dell'anno 2015 verrà ripristinata o se e come si prevede di modificare l'attuale pianta organica chiedendo altresì lo stato attuale dei lavori dell'edificio danneggiato dal sisma, il cronoprogramma e i progetti futuri per la ricostruzione, specificando infine gli intendimenti della giunta dell'Asle 2 in merito al futuro dei servizi di emergenza-urgenza svolti in tale ospedale al servizio delle aree e limitrofe. Nella risposta l'assessore Luca Coletto ha detto che c'è la volontà di ripristinare la pianta organica del 2016 dell'ospedale di Norcia. Siamo lavorando, ha detto, anche per far partire i lavori per l'edificio danneggiato dal sisma. Per dare il via alla gara per l'ex convento, la direzione ha predisposto un masterplan e una bozza di protocollo d'intesa coasle comune. Qui si intende posizionare ambulatori uffici, mentre il contiguo edificio va abbattuto e ricostruito per garantire la funzionalità in caso di sisma di pronto soccorso e degenza. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha presentato un'interrogazione all'assessore Luca Coletto chiedendo se la giunta regionale voglia aprire un confronto coinvolgendo l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine dei Medici, le ASL, l'Università di Perugia e altri soggetti ritenuti utili al fine di introdurre definitivamente la figura dello psicologo di base e in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. L'assessore Coletto ha detto di riconoscere il ruolo della psicologia di base, assicuro, ha detto, il coinvolgimento di tutti gli stakeholders per il prossimo piano sociosanitario, con il coinvolgimento degli psicologi tenendo conto dei minori e dei soggetti che hanno maggiore difficoltà. Intanto sono già stati attivati in alcune aziende i servizi di base di psicologia con la definizione di una logica sistemica di rete. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria.